Ciao a tutti, un bacione enorme dalla vostra unica. Allora, video haul acquisti con questi saldi appunto estivi che sono iniziati. Sono andata da Alcott, però devo farvi vedere le ultime quattro cosine che mi sono arrivate da Aliexpress. Allora, la prima sono questi sticker emoji, che sono così, tre foglietti erano. Uno, due e tre, con tutte un pochino appunto le faccine che ci sono. Poi, un sticky note, questo qua, con il pianeta, la terra, sì. Ci sono tanti vari tipi, con la luna, con il tit 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 tit, no, a me è arrivato questo, qui arriva a random. Poi, l'ultimo washie che aspettavo, che è questo qua, su questi spucciosini qua, che non so che cosa vengono comunque, l'ho messo anche qua, sul mio libriccino di tutti i miei washi deco tape, paper tape, pipopipa. Poi l'ultima cosa è questo, sempre dei post-it, sticky notes, pucciosini qua con gli animaletti, che si apre a libricino e dentro ci sono questi, e queste erano le ultime quattro cosine che aspettavo da Ali Espi, tutti quegli ordini che avevo fatto, sapete che c'hanno i suoi tempi e arrivano pian piano. Adesso andiamo con Alco, allora, prima che vi faccio vedere, sono i jeans di mio marito, allora pagati 9,99€ a fare e sono veramente belli, sapete che poi a me i jeans di Alco piacciono, sono fatti così con l'elastico in vita, con la colisse a cordina, molto originali, dietro è così, e il fondo finisce così io non accorcio perché non sono capace di fare gli orli, hanno l'elastichino finale. Però a lui è comodo, a lui piacciono questi così, anche perché poi se mi incimento io a scortargli, a accorciargli i pantaloni, per me gli faccio una gamba così, una gamba così, lascia a perdere, è meglio. E questi, poi, arrivo adesso con i miei, pacchettone, sì poverino mio marito pacchettino, è mica pacchettone, vabbè. Allora, non potevo lasciarla lì, adesso capirete perché, chi mi conosce lo sa, i vecchi video acquisti di acqua e sapone, io compravo sempre, quando c'era sempre in offerta, un profumo e chi lo sa me lo scriverà nei commenti. Yeee, guardate quanto è cuccia. E questa l'ho pagata 3,99€, cioè, veramente stupenda. La le faccio vedere, tiriamo via un attimo il cartellino indietro così. Betty Boo, yeee. Troppo bella, troppo, 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 troppo bella. Poi, ho preso anch'io due paia di jeans. Allora, vi faccio vedere. Questo chiaro, l'ho pagato 7,99€. Ci sono 4-5 modelli, 7,99€, nero, blu più scuro, color chiaro, altri modelli. Io ho preso questo fatto così. Allora, la gamba così. Di qua ha un piccolo strappo proprio sulla coscia. Poi, va bene, in fondo c'è l'orlo, va poi a tirarlo giù. E il dietro è così. È semplicissimo, poi io li uso talmente tanto, io li ho sempre i jeans, anche in piena estate. Infatti, vi dico, ma non è caldo? Io ho caldo sopra, sudo, testa, collo, ma io le gambe, io devo avere i jeans. Non perché abbia le gambe schifoserrime, perché per carità, sì, vabbè, non è che sono la Belen, però. Non è che non è che ho le gambe della Belen, però. Diciamo. Non è che me le copro, è perché mi piace i jeans. E poi, altro jeans, questo qua un pochino di più però, è sempre scontato, 12,99€, perché era troppo, troppo bello. Guardate, questo fatto così, proprio un po' slavato, tipo in modo di un po' melange. Vedete, proprio il jeans è tutto, sembra puntinato bianco. È bellissimo anche questo qua. Poi vestono bene, a me piacciono i jeans di Alcott, vestono veramente, veramente bene. E questo, 12,99€. Poi, alla cassa ci sono sempre i calzini. Io avevo già, chi mi segue, avevo già preso degli altri calzini, ma c'erano questi, a 99 centesimi. Guardate che bello. E ne ho presi due. Belli, belli, belli. Basta! Questi sono acquisti con i saldi fatti da Alcott e qualcosina di AliExpress che vi ho fatto vedere. Niente, io vi saluto e però vi dico, occhio, continuate a vedere il video perché c'è qualcun altro che vuole l'attenzione da voi. Ciao! Ciao a tutte ragazze e ragazzi, io sono One X Generation Eco. Oggi farò vedere gli acquisti da Alcott e da AliExpress qua. Iniziamo con Alcott. Messo che c'erano i saldi, ho comprato un paio di calzini a un euro. E poi ho comprato questa maglia molto bella, Fashion, che è costata 4 euro, è precisione. Dopo un altro paio di calzini in saldo a 99 centesimi, 18 di 4 euro. Dopo i jeans, che sono costati 13 euro. Sono molto ottimi, molto bello. E ho comprato un altro paio di jeans ad 8 euro. Non è mica tanto, è poco. E dopo ho comprato questo primo sacchetto finito. Bene. Secondo sacchettino piccolo. Vedete che è più piccolo perché ho comprato tutto. Sempre da Alcott ho comprato un altro paio di jeans a 10 euro pochissimo, ovvio. E ho comprato due, tre pezzi di sticker con gli emoji molto faichi. Un termine, sì, è diventato. Poi questi deco... come si chiamano? Post-it, quasi. Un prezzo non mi ricordo. Dopo quello che ho comprato un post-it a mondo. Magari ci servirà qualcosa. Dopo un deco tape. Che è molto bello, deco tape. E poi dopo questa gendina. Guardi, faccio i disegnini. Ecco, io a qui si sono finiti. Alcott. Se il video vi piace lasciate like. Noi ci vediamo al prossimo video. Da One X Generation Nico. Ciao! Ciao!